10 agosto 1947 10 agosto 10 agosto 10 agosto 10 agosto 11 agosto una pietra della pioggia che dovete aver ben conosciuta. Non contate più di rivederlo in avvenire. Il suo nome resti immortale nelle vostre opere. E' il 3 ottobre 1946, in uno dei tanti villaggi Dogon arroccati alle palesi di Banjagar, nel Mali. Dopo lunghi anni di rifiuti o gotemmeli, il vecchio saggio di Ogolbas inizia a rivelare a Marcel Griol e Germain Dieterlen, due etnologi di un'equipe del Museo dell'Homme di Parigi, i misteri della religione Dogon. I Dogon decisero di rivelare i misteri della loro religione solo dopo anni di ricerca da parte di Marcel Griol e della sua equipe. Ciò significa 17 anni dal primo contatto avvenuto nel 1931. L'insegnamento dei Dogon è basato su quattro stadi di conoscenza, corrispondente ai nostri primario, secondario, superiore e di erudizione. Anche con noi hanno cominciato dalla prima parola, così viene chiamato il primo stadio dell'insegnamento. In seguito hanno capito che potevamo essere introdotti al terzo stadio della conoscenza, cioè al superiore, e ne hanno incaricato o gotemmeli. Questo, che vi sembra un semplice paniere, è in realtà il sistema del mondo. La base rotonda è il sole, il tetto quadrato, il cielo. Questo cerchio al centro del tetto è la luna. Inommo, gli otto antenati dei Dogon, lo portarono sulla terra con dentro l'argilla necessaria a costruire i granai dei nostri villaggi, che rappresentano l'universo. Nel granaio le scale indicano le coppie di maschi e femmine che generarono i Dogon, ma anche costellazioni e stelle. A nord le Pleiadi, a sud Orione, a est Venere, a ovest la stella con la grande coda. Tutto è cominciato con questo paniere, ma oggi serve solo a rinchiuderci i polli. Quello che i Dogon ci raccontavano della loro cosmogonia poteva essere verificato ovunque, nei rituali e in tutte le cerimonie a cui si assisteva, la nascita, il battesimo, i funerali, i rituali collettivi, i riti totemici, eccetera. Il luogo più importante di Sanga è un terreno completamente nudo che nessuno può calpestare e che rappresenta il cielo stellato, sul quale sono disposti a volte semplici sassi o delle piccole steli, che rappresentano una serie di stelle e di costellazioni. La Terra ruota su se stessa e gira in dodici mesi attorno al Sole. Giove ha quattro satelliti, Saturno è circondato da due anelli e le galassie si espandono a spirale. C'è vita intelligente nelle galassie. E' sorprendente che tutti quelli che si sono occupati dei Dogon, compresi gli autori arabi, non abbiano intuito la profondità straordinaria della cosmologia contenuta in queste tradizioni dell'Africa nera. Benché si tratti di conoscenze elementari per gli astronomi occidentali, esse sono comunque di estrema importanza, poiché riferite a stelle che in Occidente sono state scoperte solo molto più tardi. Tutto ciò è estremamente antico. Parlo di parecchie migliaia di anni fa. Esiste una stella invisibile agli occhi che ruota in 50 anni attorno a Sirio. Si chiama Digitaria. E' estremamente piccola e composta di aria, acqua, fuoco e metallo. Digitaria è così pesante che tutti gli uomini della Terra non riuscirebbero a sollevarla. Digitaria è il seme di cereale più piccolo che i Dogon coltivano. Viene usato per distillare la birra che viene servita durante il Sigui, la festa più importante di questo popolo. Ogo Temmeli l'aveva paragonato ad una stella invisibile agli occhi posta nel sistema di Sirio. E il diagramma disegnato dal vecchio era lo stesso che si può trovare su un qualunque libro di astronomia moderna dove Digitaria è Sirio B. Il fatto che essi abbiano visto e vedano Sirio B è inspiegabile. Gli astronomi dispongono oggi di immagini che ne attestano l'esistenza ma stabilire come i Dogon l'abbiano visto se a occhio nudo o in altro modo non è di mia competenza. Sirio è la stella più brillante del cielo. Fino al 1850 si ignorava che avesse una compagna che fu chiamata Sirio B. Sirio B è una nana bianca cioè composta di materia così pesante che può emettere solo una debolissima luce. è stata fotografata la prima volta solo nel 1970 e ruota attorno a Sirio in 50 anni circa. Una descrizione primitiva ma corretta quella di Ogo Temer. Ma se la stella è invisibile agli occhi come asseriva il vecchio come potevano i Dogon conoscerla così bene? Strana gente i Dogon un vero rompicapo scientifico le loro origini sono sconosciute arrivano nel Mali e si installano nella zona di Bangiagara attorno all'anno 1000 costruendo i loro villaggi in uno dei più inaccessibili caos di rocce di tutta l'Africa. Si fanno in breve la fama di popolo pericoloso arretrato che pratica ancora i sacrifici umani. Attorno a loro aleggia il terrore. I pochi curiosi che riescono a penetrare nel canyon di Bangiagara parlano di sacerdoti addetti a riti occulti di feste misteriosi in onore di dei sconosciuti confinati nelle regioni più lontane dell'universo. I villaggi Dogon sono una strana sintesi di preistoria e fantascienza. ognuno di essi ha recessi segreti che solo gli iniziati possono penetrare. E tutti attraverso una ragnatela di sentieri si collegano a Sanga il Sancta Sanctorum della religione Dogon. Il Toguna la casa della parola è il cuore del villaggio è una costruzione semplice un tetto di paglia sostenuto da otto pilastri che rappresentano gli antenati dei Dogon i Nommo qui gli anziani si riuniscono per prendere le decisioni più importanti per la vita del villaggio combinano matrimoni mediano affari dirimono le rare dispute. attorno le case sembrano tanti favi di un alveare dove si fabbricano cesti si tessono stoffe si modellano ceramiche si fonde il ferro. a prima vista sembrano villaggi come tanti sparsi in Africa ma non è così se si osserva lo schema dall'alto ne esce la figura di un uomo che giace su Pino disteso da nord a sud il Toguna e la fucina del fabbro sono la testa le case delle famiglie facoltose il petto le capanne dove le donne si isolano durante il periodo mestruale e l'altare del villaggio le mani i piccoli altari in basso al centro i piedi è il corpo dell'antenato il mitico nomo la cui immagine è presente ovunque modellata sulle facciate delle case dentro i granai scolpita sui pilastri dei Toguna e nelle maschere nascoste nelle grotte ogni 60 anni circa i Dogon celebrano una festa in onore di Digitaria cioè Sirio B è la festa del Sigui vengono indossate le maschere Kanaga simbolo dell'equilibrio tra la terra e il cielo e la processione si snoda come un serpente attraverso tutti i villaggi dell'universo di Banjagara in un corale ringraziamento ai nonno iniziatori della civiltà il sentiero della maschera è diritto cantano i Dogon questo sentiero corre diritto nella lingua degli iniziati diritto si dice Po ma anche Digitaria si dice Po quindi il vero significato di queste parole è il sentiero della maschera è Digitaria questo sentiero corre come Digitaria così protetto dai possenti bastioni di roccia di Banjagara camuffato da questi abili giochi di parole il segreto di Sirio B è stato difeso per secoli dalla curiosità delle tribù vicine dal fanatismo musulmano dalle ingerenze del colonialismo francese ma come i Dogon scoprirono l'esistenza di Sirio B il dio dell'universo Amma aveva mandato sulla terra il Nummo il Nummo atterrò nell'arida terra della volpe a nord est del nostro territorio mentre la sua arca scendeva un'enorme nuvola di polvere si alzò dal terreno il Nummo era rosso come il fuoco ma quando atterrò divenne bianco intanto una stella era apparsa in cielo e sparì quando il Nummo se ne andò il vecchio descrisse il Nummo come una creatura metà uomo e metà anfibio e c'è anche un disegno come questo per rappresentare il turmine di vento e sabbia prodotto dall'arca durante l'atterraggio il contatto avvenne dunque nell'arida terra della volpe a nord est del territorio dei Dogon ma quando su questo Ogotemmeli fu molto vago tanto tempo fa disse il vecchio dunque era solo l'ultimo testimone di eventi più antichi che si erano verificati lontano da Banjagara nell'arida terra della volpe a nord est delle falesie di Banjagara oggi c'è il Sahara il più grande deserto del mondo ma non è sempre stato così sappiamo che un tempo questa terra morta era verde e fertile e ci vivevano popolazioni che avevano raggiunto un alto grado di civiltà lo testimoniano le pitture rupestri del Tassili del Logar migliaia di immagini che raccontano cinquemila anni di storia con una straordinaria forza evocativa improvvisamente attorno al 1500 avanti Cristo appaiono sulle rocce le figure di uomini a cavallo sono i Garamanti i predoni che hanno preso il controllo dei deserti tra il Niger e l'Egitto la loro terra d'origine il grande regno dei Garamanti fu distrutto dagli arabi musulmani dispersi essi si mescolarono alle popolazioni aborigine del Niger adottandone la lingua sono dunque i Garamanti gli antenati dei primi Dogon che si stabilirono quasi mille anni fa nelle falesie di Banjagara e le loro origini vanno cercate in Egitto all'epoca in cui Imhotep erigeva la piramide di Sakkara ma gli egizi conoscevano l'esistenza di Sirio B c'è chi sostiene di sì e la prova è nascosta nel mito di Iside e di Osiride Osiride un tempo fu re d'Egitto poi fu ucciso diventando il sovrano dell'aldilà il mondo primordiale da cui scesero le otto figure divine che generarono il popolo egizio esse venivano da un mondo acquatico avevano testa di rana e di serpente e fondarono le prime città d'Egitto ma Osiride era marito e fratello di Iside la stella Sirio un legame che rendeva la coppia indivisibile possiamo identificare Osiride colui che regna sull'oscurità perfetta con Sirio B la digitaria invisibile agli occhi dei Dogon è dunque l'Egitto l'arida terra della volpe descritta da Ogotemmeli dalle rive del Nilo il mistero di Sirio si diffuse con i garamanti in altre terre adattandosi a tradizioni lingue culture diverse Sirio B assunse altri nomi e Marcel Griot e Germain Dieterlen in tempi storici raccolsero l'ultimo Digitaria il piccolo seme così pesante da richiedere 480 carri tirati da asini per il suo trasporto ma Ogotemmeli aveva in serbo un'ultima strabiliante rivelazione Digitaria non è la sola compagna di Sirio la stella M.I.A sorgo femmina è più grande quattro volte più leggera e viaggia su una traiettoria maggiore nella stessa direzione sorgo femmina è la sede delle anime di tutti gli esseri viventi e futuri vivono immersi nelle acque degli standi familiari capire come i Dogon sappiano che Sirio abbia un secondo compagno resta un mistero posso solo dire che i Dogon dichiarano di aver visto Sirio C che ora non vedono più e ne hanno dato una rappresentazione estremamente precisa e non vedono più ma esiste davvero Sirio C la stella sede delle anime dei Dogon il dottor Paul Mardin del Royal Greenwich Observatory è convinto di sì altri astronomi preferiscono attendere i risultati di nuove indagini in corso sul sistema di Sirio Ogotemmeli, questo omero africano morì pochi mesi dopo quel suo ultimo incontro con Marcel Griol e Germain Dieterlen forse fu la preveggenza della propria fine che lo spinse a rivelare cose che solo gli iniziati dovevano conoscere volgeva spesso il viso verso nord ricorda Griol verso il paese dove si dice vivano i bianchi accanto a lui gettato in un angolo c'era ancora il vecchio paniere il cui prototipo nei tempi mitici era servito da modello per il sistema del mondo si lasciarono così sapendo che non si sarebbero più rivisti a lui gettato in un angolo